Tutto che parla, Senke Giosecuergo, qua per dirvi che sabato 29 ottobre la Manaya Records, 4MACU e Aga Bacchela presentano SS War volume 2. Saranno presenti tutti coloro che hanno preso parte al CD, quindi si tratta di un grande evento, non si può mancare e venite numerosi. Ciao a tutti, ben check this!